Credo 30 anni fa, perché io doppiai uno dei primi film della strip che era Il Cacciatore, scelta da Zurlini e da lì praticamente ho cominciato a doppiarla, sempre, e ho continuato fino adesso, in un certo senso siamo invecchiate insieme Tranne qualche volta che gliel'hanno scippata, no? Tranne qualche volta che mi è stata scippata, sì, diciamo proprio scippata Sono solo un'attrice molto, molto, molto brava E tu? Tu sei un'insegnante di una cittadina di Zotici che non sa distinguere tra fantasia e realtà Abbiamo finito? Oh sì, abbiamo finito